Intersezione bambini 5 anni ha ciascuno il suo segno Ciao miei cari bambini, ho visto le vostre attività che mi sono state inviate tanti mattoni, i fili d'erba e devo dire che siete stati davvero molto molto bravi L'attività di oggi invece Nelle scorse attività avete fatto tanti mattoni, i fili d'erba, oggi faremo i cerchi Io uso sempre le tempere a dita, cerchi piccoli, cerchi grandi, in senso anti-orario Potete usare anche dei pennelli Cerchi piccoli, cerchi grandi E ora preparate il vostro quadernone L'attività di oggi dà il titolo Senti il ritmo Ora i cerchi li disegneremo sul quadernone, nel nostro quadernone centimetrato Il primo cerchio in senso anti-orario Poi spazio, spazio e cerchio Spazio, spazio, cerchio Spazio, spazio, cerchio Mi raccomando ricordatevi che questa volta sono due spazi e un cerchio Finite la riga E poi si va sotto Sotto salto ancora due quadretti e un altro cerchio E così fino a completare tutta la pagina Completata la pagina Scegliete due colori Io ho scelto l'azzurro e il blu E li colorate, colorate i cerchi in alternanza Quindi, azzurro Blu Mi raccomando l'impugnatura corretta della matita Si colora sempre dall'alto verso il basso Alternando i colori Azzurro Blu L'impugnatura corretta della matita La riga sotto Azzurro E così fino a completare la pagina Buon lavoro bambini Gli obiettivi dell'attività sono Orientamento e organizzazione spaziale Colorare secondo il ritmo Buon lavoro bambini Mi raccomando Sempre concentrati e con attenzione Mi raccomando Un'abb bourbon Grazie a tutti.